Una giornata di sciopero per il trasporto pubblico locale che il primo marzo si fermerà per denunciare ancora una volta la difficile situazione che si è venuta a creare a causa dei tagli al settore che stanno mettendo in ginocchio le aziende pubbliche e private e che mettono al rischio centinaia di posti di lavoro. Numerose le vertenze aperte negli ultimi mesi dal CSTP alla Sita. Questa mattina incontro a Napoli tra l'ANAV, l'associazione delle autoline private e di sindacati per gli accordi integrativi, diversi problemi evidenziati dalle aziende secondo le quali i costi sarebbero ormai insostenibili. Secondo i sindacati nei prossimi giorni potrebbero esserci novità per la Sita per la quale la CGL teme una sessantina di esuberi. Oggi invece confronto in prefettura a Salerno per l'avvertenza Buono Tourist dopo che l'azienda nel pomeriggio di ieri ha annunciato la mobilità per 13 dipendenti. Abbiamo chiesto l'intervento della prefettura in ordine al mancato pagamento delle retribuzioni in modo particolare di una parte della tredicesima mensilità e di una parte dello stipendio di dicembre, compreso ovviamente la retribuzione di gennaio e in ultimo anche di febbraio. Nel contempo poi abbiamo avuto un'ulteriore notizia negativa sempre per quanto concerne la Buono Tourist che riguarda la procedura di mobilità aperta per riduzione di attività nei confronti di 13 dipendenti. Sembra aver fatto un passo in avanti invece un'altra avvertenza, quella del CSTP, il Consorzio Pubblico dei Trasporti Salernitani. Qualche giorno fa in Regione Campania si è definito il disciplinare che regolamenta il Fondo di Sostegno per il Trasporto Pubblico Locale. Quindi è stato ufficialmente dichiarato che per questo settore, per la gestione della crisi, ci saranno 15 milioni di euro, di cui 8 per i contratti di solidarietà difensiva e 6 per quanto concerne l'è stato incentivato. Quindi si apre concretamente una strada che può portare alla revoca della procedura di mobilità che il CSTP ha aperto nei confronti di 149 dipendenti. In una situazione sempre più difficile per i trasporti su gomma si lavora a Salerno per attivare la metropolitana leggera. Come anticipato la scorsa settimana da Telecolore, ieri mattina l'amministrazione comunale ha proposto a Trenitalia di prolungare il servizio locale sui binari metropolitani almeno in una prima fase. Lunedì prossimo poi incontro romano per l'accessione della rete ad RFI. Questo agevolerebbe l'inserimento della metropolitana di Salerno nella rete ferroviaria nazionale ed indirettamente in quella campana superando gli ostacoli regionali. Dopo il 12 invece il Comune incontrerà i vertici di Alstom per definire l'acquisto di due treni grazie al vecchio finanziamento del Ministero dei Trasporti che potrebbero essere consegnati entro un anno.